Nel nostro approfondimento di oggi ospitiamo il senatore della Lega Johnny Crosio, benvenuto senatore, l'occasione è quella di tracciare un consuntivo di questa legislatura ormai agli sgoccioli, qual è il suo bilancio? In questo momento di grande difficoltà nel Paese ma anche della politica il bilancio va fatto sia a titolo personale che sulla questione politica. A titolo personale conta forse poco ecco la soddisfazione di aver lavorato per la propria terra come sempre in queste due legislature perché al centro dei miei interessi non ci sono interessi personali, ci sono interessi dei valtellinesi, dei Valkiavennaschi e tutte le azioni che io cerco di portare avanti sono prevalentemente a favore della nostra terra. Dal punto di vista politico è stata una stagione difficile, difficile perché in questi anni si sono succeduti governi non voluti dagli italiani, governi messi lì un po' dalla politica che hanno in modo particolare anche per la provincia di Sondio creato qualche problema. Il bilancio mio dal punto di vista politico è comunque favorevole innanzitutto per aver stoppato quella follia che era stata messa in campo dal governo di Matteo Renzi che era quella della riforma costituzionale che avrebbe oltremodo penalizzato la provincia di Sondrio. La provincia di Sondrio che è stata penalizzata sempre dal governo Renzi per quanto riguarda la riforma delle province, la legge del Rio che oggi a bocce ferme, proprio lunedì mattina in commissione mia a Roma, anche i colleghi del Partito Democratico hanno ammesso, loro hanno detto che non era perfetta e qualcosa va corretto. Noi diciamo che ha fatto veramente un macello e ce ne stiamo accorgendo anche in provincia di Sondrio, la riforma del Rio sulle province che non le ha cancellate, ha solo creato da una grandissima confusione istituzionale e amministrativa, andrà risolta e questa la risolveremo a marzo quando andremo al governo. Quando si andrà a votare se nei vostri auspici naturalmente vincerete le elezioni. Assolutamente. Questo dunque ritiene il risultato più significativo conseguito per il territorio della provincia di Sondrio o quali le altre priorità a cui lei ha posto impegno? Ma guardi, la provincia di Sondrio ha una fortuna che in tempi non sospetti è stata messa in campo un'azione politica che anche in questi momenti di magra politica ovvero sia di questo governo maldestro da Monti in poi, le questioni che interessavano la provincia di Sondrio non sono state toccate, mi riferisco in modo particolare alle infrastrutture. Se in provincia di Sondrio è vero come vero che abbiamo il più grande cantiere che in questo momento c'è in Lombardia che è la statale 38, lo dubbiamo, l'azione che è stata fatta negli anni passati dall'amministrazione della Lega con Provera e poi con Massimo Sertori che ha dato l'abbrivio per fare queste opere. Mi permette di essere un po' velenoso. Qualcuno aveva detto che la terza fase era quella di Tirano, tanti annunci da parte di chi sta al governo in questo momento, i cantieri dovevano aprire a dicembre dell'anno scorso, non abbiamo ancora i progetti approvati, però io prendo un impegno davanti ai valtelinesi se mai dovessi tornare a Roma, quello di andare e sistemare le questioni perché l'abbiamo lasciato in mano i dilettanti, i dilettanti hanno fatto solo casino, permettetemi questo, sono un po' arrabbiato da questo punto di vista e dovremmo sistemare quello che ci spetta, cioè che la Tirano abbia finalmente, sperando che non sia stato compromesso niente, questo lo verificheremo. Ecco, senatore ha detto, se mai dovessi tornare a Roma, quindi la domanda è d'obbligo, sarà ricandidato? Ma guardi, questo non dipende da me, io ho dato la mia disponibilità, do la mia disponibilità, voglio dare il mio contributo, sono a disposizione del Movimento, se il Movimento ritiene che io possa contribuire, è ben felice di farlo, insomma ci mancherebbe, mi sento ancora pieno di energie, pieno di voglia di rappresentare non solo il mio Movimento, ma rappresentare tutti i valtelinesi e i Varchiavennaschi. Qual è il suo premier ideale, Salvini? Assolutamente sì, ragazzo giovane, ragazzo con una grande energia e anche una grande umiltà, io lo conosco personalmente, nella gestione, nella programmazione, ascolta, ascolta tutti, ne fa buon uso e poi decide, questo è giusto che sia così, noi siamo molto fiduciosi in lui, ma siamo molto fiduciosi in questo centrodestra che comunque in questo momento di difficoltà sta dimostrando di avere una grande coerenza, sta dimostrando di avere una grande capacità di fare sintesi e faremo sintesi e siamo pronti a governare perché siamo certi di poter sovvertire quell'andazzo che abbiamo avuto negli ultimi 5 anni che da Monti in poi attraverso Renzi per poi con Gentiloni, Renziloni come lo chiamo io, ha aumentato le tasse, si è piegata l'Europa e non ha fatto il bene dei cittadini. Una battuta in chiusura, senatore, il suo giudizio sulla decisione di Maroni di non ricandidarsi? Una decisione personale che in virtù di quello che dicevo prima non cambia le sorti a mio giudizio di quello che saranno anche le votazioni in Lombardia per quanto riguarda le elezioni regionali che comunque vanno con l'election day delle nazionali. Sono dispiaciuto che Bobo Maroni non voglia continuare questa avventura, non conosco nell'intimità le sue scelte, sono personali, so che persona seria per cui si è fatto questa scelta è sicuramente ponderata. Verrà a Roma? A suo giudizio? Questo non spetta a me dire questo o programmare questo. Credo che Bobo Maroni sia comunque una risorsa del centro-destra e vediamo un po' cosa ci riserverà al futuro. Grazie a tutti.